A segnalare per l'ennesima volta lo stato di assoluta emergenza, le case ATER di via caduti per servizio a Fontanelle, il consigliere regionale uscente del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che stamane ha convocato la stampa per mettere in luce una situazione dai contorni paradossali. Dopo mesi e mesi di sollecitazione, finalmente l'ATER dà seguito alla procedura per lavori di manutenzione straordinaria. Lavori però fermi da prima di Natale e residenti, in particolare in questi ultimi giorni di freddo e pioggia, alle prese con infiltrazioni, muffa sui muri e perfino pioggia dal soffitto. Si tratta tra l'altro di nuclei familiari prevalentemente composti da gente anziana, tra cui anche diversi disabili. I lavori non dovevano assolutamente partire in questo periodo, anche se erano stati affidati già da settembre, se le ditte avessero rispettato i tempi, 90 giorni di tempo, come ci era stato detto, noi avremmo già avuto tutto pronto e invece ci troviamo a metà gennaio, i lavori sono fermi e le infiltrazioni aumentano. Il bando è stato assegnato a febbraio dello scorso anno, ci riferisce una geometra rappresentante di una ditta ed invece di consegnarci i lavori a marzo, come si converrebbe l'ATER atteso la piena estate quando tra cantieri da riconsegnare la pausa di agosto era da parte nostra impossibile partire. Abbiamo per questo iniziato a settembre andando inevitabilmente incontro alla stagione fredda con temperature che non ci consentono di seguire le opere a regola d'arte. Per non parlare di anomalie sul progetto che ci è stato affidato e sul quale non possiamo nemmeno apportare modifiche. Sì, sì, sicuramente ci saranno delle anomalie, ma questo a chi abita qui non è che interessi poi tanto. A loro interessa il fatto che i lavori si sono fermati, le umidità sono aumentate, le infiltrazioni sono aumentate e loro adesso si trovano ad avere le bacinelle per terra e raccogliere l'acqua addirittura con gli stracci.